Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie No dico, mi sa che hai sbagliato anno, stiamo nel 2021, non siamo nel 2016, che porti Giammetti Dash Eh vabbè, in realtà Giammetti Dash va ancora Sì, si va dritti, si vola ragazzi, allora, ecco qua la barchetta ci serve, che cazzo c'è la barcha, oh là, voilà, si vola Allora, deve finire sto bioma in qualche, in qualche maniera, cioè, non perdere la speranza, minchia ragapia, c'ho già dei cristo di cosi, di coso, che hanno 104 di durabilità però Esci madonna, esci Dio, 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 quello bello, quello profumato, quello fatto con tanto amore Viva alla figa, dio, dio, porco, 98 quintiliardi, 234 quintilioni, 700 L'ho cambiata con la tua password Sì Quindi alla fine, io so che all'artistico nei primi anni si studia veramente un sacco, è un inferno studiare all'artistico nei primi anni Ok, dovrei avere abbastanza blocchi di quarzo, slash, om, om, andiamo a casa 23 spec, dai saliamo, ovvio, ovvio, ovvio Come? Riferisci alla persona che sta arrivando, che io ti ho fatto questo Va bene, vai vedere di che cosa sei capace Ragno Oddio Ecco Io la chiamo la super Non ho sentito niente Cosa? Ho sentito io Marzio Come cazzo faccio a tirare le linee nel campo che ci sono quegli alberi in mezzo ai coglioni? Sì, con il naso, con una banconota da cinque tiri Ragazzi, io mi dissocio, signori della finanza mi dissocio Come si clippa? Ok, il tasto clippa Allora, allora Oh, le forme Oh, Sibo Formamelo tutto No, no, no Bruttissimo Una foto? Spero abbiate fatto lo screen Penitenza Un penitenza È diventata veramente cringe E mi sa di sì A giudicare Certo, sono anche qua È diventato e sempre Non so, un lavandino Le sputo addosso così ho un po' più di liquido No, non succede assolutamente niente Io ho leccato il muco reale E non è successo nulla Ma che schifo, signor Chianco Non è successo niente Che schifo Stai lontano Ammazzatelo I miei 27 livelli No Questo Io andrei a Grazie per il follow FedEx-10 Benvenuto in live Ciccio, come stai? Io andrei a Disenchantare questo Provarmela con gli ultimi livelli Eh ma è soltanto unbreaking Meglio di prima Meglio di prima Meglio di prima Non si tanto si farà lì Ah, questo Ho sbagliato Ho sbagliato Shaders si trovano qua Le Zeus Aspetta, questi sono 1.17 Speriamo che funzionino anche con la 1.18 No, non funzionano con la 1.18 No, non funzionano con la 1.18 No, non funzionano con la 1.18 Benvenuti a tutti In generale c'è la Good morning C'è la E' per Minecraft Premium Quindi non Minecraft Crackato Minecraft Premium Sono più forte che me Cosa avete dei voi? Bals Sì? No Perché Pigeon è quello con più poteri Non ha poteri Sono io quello con più poteri nel server Era Ignazio che lo mandava E per questo che Ah, sì sì Ti amo da Gotham City Brutto Armagno Bastardo Sa Che la prossima volta Ti accio Ti anniento Ora Con l'influenza Cazzo Ha detto questo Grazie di cuore per avermi riferito al messaggio Appena ho notizie le farò sapere Mi ha detto di dirle testuali E per avermi riferito al messaggio